di sera io e il cacciatore Yermolai andavamo all'aspetto ma forse non tutti i miei lettori sanno che cosa sia l'aspetto ascoltate dunque signori un quarto d'ora prima che tramonti il sole in primavera entrate in un boschetto con lo schioppo senza cane vi cercate un posto da qualche parte vicino al margine vi guardate dietro esaminate il pistone scambiate una strizzatina d'occhi col compagno il quarto d'ora è passato il sole è andato sotto ma nel bosco è ancora chiaro l'aria è pura e trasparente gli uccelli balbettano ciarlieri l'erba novella luccica dell'allegro splendore dello smeraldo voi attendete l'interno del bosco si oscure gradatamente la luce rossa del crepuscolo sfiora lenta le radici e i tronchi degli alberi sale sempre più su sempre più su passa dai rami più bassi ancora quasi nudi alle immobili cime che si assopiscono si sono fatte scure anche le cime stesse il cielo vermiglio si inazzurra l'odor del bosco diventa più forte appena aspira una tiepida umidità il vento ingolfato si muore presso di voi gli uccelli si addormentano non tutti in una volta ma per specie ecco che si sono chetati i fringuelli dopo qualche istante le capinere poi gli ortolani nel bosco è sempre più scuro gli alberi si fondono in grandi masse nereggianti nel cielo turchino spuntano timide le prime stelluce tutti gli uccelli dormono i codi rossi i giovani picchi soli fischiettano sonnolenti ecco han fatto silenzio anch'essi ancora una volta risonato sopra di voi la voce sonora del lui in qualche parte il rigogolo ha mandato il suo malinconico grido l'usignolo ha fatto il primo schiocco il vostro cuore langue d'attesa è a un tratto ma solo i cacciatori mi intenderanno un tratto nella cui età profonda e che già no un gracchiare un sibilo d'un genere speciale se ode un misurato battere di agili ali e una beccaccia inclinando con grazia il suo lungo becco vola via dolcemente da dietro a una oscura betulla incontro al vostro tiro ecco che vuol dire stare all'aspetto io dunque e gli ermolai andammo all'aspetto ma scusate signori devo prima farvi conoscere gli ermolai figuratevi un uomo sui 45 anni alto magro con un naso lungo e sottile fronte stretta occhietti grigi capelli arruffati e larghe labbra beffarde quest'uomo andava vestito estate inverno di un caffettano giallastro di lanchino di foggia tedesca ma se lo stringeva ai fianchi con una cintura portava calzoni larghi turchini e un berretto d'agnello regalatogli in un momento d'allegria da un possidente rovinato alla cintura venivano da lui legati due sacchi uno davanti ingegnosamente ritorto in due per la polvere e il piombo l'altro di dietro per la selvaggina gli stoppacci gli ermolai li tirava fuori dal suo berretto evidentemente inesauribile che sarebbe stato facile col denaro ricavato dalla vendita della selvaggina comprarsi una cartuccera e una bisaccia ma non aveva pensato neppure una volta a un simile acquisto eseguitava a caricare il suo fucile sempre allo stesso modo destando lo stupore degli spettatori con l'arte in cui evitava di spandere o di mescolare il piombo e la polvere il suo schioppo era a una canna a pietra focaia dotato inoltre della brutta abitudine di rinculare ferocemente per la qualcosa la guancia destra di gli ermolai era sempre più gonfia della sinistra come gli accarezzasse i colpi con questo fucile anche un uomo ingegnoso non avrebbe potuto concepirlo ma li accarezzava aveva pure un cane da fermo chiamato valetka una creatura stranissima gli ermolai non gli dava mai da mangiare mi metterò a nutrire un cane così ragionava e poi il cane è una bestia intelligente il cibo se lo troverà da sé e infatti benché valetka colpisse anche l'indifferente passante per la sua estrema magrezza pure campava e campò a lungo anzi nonostante la sua miserabile condizione non era scappato mai e non dava segno di voler lasciare il proprio padrone una volta negli anni giovanili si era assentato per due giorni attratto dall'amore ma si era ben presto scrollato di dosso quella follia notevolissima caratteristica di valetka era la sua inconcepibile indifferenza per ogni cosa al mondo se non si trattasse d'un cane avrai usato la parola delusione di solito stava seduto con la coda mozza ripiegata sotto di sé si accigliava sussultava ogni tanto e non sorrideva mai e noto che i cani hanno la capacità di sorridere e anche di sorridere molto graziosamente era brutto all'esterno e non vera servozioso che si lasciasse sfuggire l'occasione di schernire velenosamente il suo aspetto ma tutti questi scherni e anche i colpi valetka le sopportava con meraviglioso sangue freddo una particolare soddisfazione la procurava ai cuochi che subito smettevano le loro faccende e con grida e parolazze si lanciavano al suo inseguimento quando esso per una debolezza non propria ai cani soltanto ficcava il muso famelico nell'uscio semi aperto dell'allettante cucina calda e profumata a caccia si distingueva per l'instancabilità e aveva un discreto fiuto ma se per caso raggiungeva una le preferita se la divorava tutta con delizia fino all'ultimo sicino in qualche posto all'ombra fresca sotto un verde cespuglio la rispettosa distanza dagli ermolai che imprecava in tutti i dialetti noti e ignoti gli ermolai apparteneva a uno dei miei vicini un proprietario di vecchio stampo ai proprietari di vecchio stampo non piacciono le beccacce ed essi si limitano al pollame domestico forse solo nelle occasioni straordinarie come a dire ai compleanni gli onomastici e le elezioni i cuochi dei proprietari all'antica si risolvono ad ammannire uccelli a becco lungo e presi dalla foga propria al russo quando egli stesso non sa bene quel che fa e scogitano per essi dei condimenti così complicati che gli ospiti per lo più esaminano con attenzione e curiosità le vivande servite ma non si risolvono punto ad assaggiarle agli ermolai era stato ordinato di procurare alla mensa padronale una volta al mese due paia di galli cedroni e di pernici per resto gli si permetteva di vivere dove e di che volesse avevano rinunciato a lui come a un uomo non adatto ad alcun lavoro un disadattato come si dice da noi a oriol si intende che polvere e piombo non glieli distribuivano seguendo per l'appunto quelle norme in virtù delle quali anche lui non dava da mangiare al proprio cane ermolai era un uomo di genere stranissimo spensierato come un uccello abbastanza acciarliero distratto ed aspetto goffo molto gli piaceva bere non era capace di restare a lungo in un posto strascicava i piedi camminando e ciondolava da un fianco all'altro e strascicandosi e ciondolando faceva le sue 50 verste al giorno gli capitavano le più svariate avventure passava la notte in palude sugli alberi sopra un tetto sotto i ponti più di una volta era rimasto chiuso in solaio in cantina e nelle rimesse perdeva il fucile il cane e gli indumenti più indispensabili veniva picchiato sodo e a lungo e tuttavia dopo un po di tempo tornava a casa vestito con lo schioppo e col cane non lo si poteva dire allegro benché fosse quasi sempre di un discreto umore in generale aveva l'aria di uno stravagante ermolai amava far quattro chiacchiere con qualche brava persona specialmente davanti al bicchiere ma anche quello non per molto tempo di solito si alzava e se ne andava ma dove vai diavolo fuori è notte a ciaplino ma per che motivo devi trascinarti fino a ciaplino a dieci verte di qui per pernottare da quel conta di nuccio di soffron ma pernotta qui no non posso e gli ermolai se ne andava col suo valetica nella notte buia per cespugli e borri e quel conta di nuccio di soffron magari non lo lasciava nemmeno entrare nella corte e forse anche era capace di peccargli il collo perché imparasse a non disturbare i galantuomini in compenso nessuno poteva eguagliare gli ermolai nell'arte di pescare al tempo della piena in primavera di acchiappare i gamberi con le mani di trovare al fiuto la selvaggina richiamare le guaglie levare gli avvoltoi prenderli i signoli col piffero dell'orco col passo del cuculo una cosa sola non sapeva fare ammaestrare i cani gliene mancava la pazienza egli aveva anche moglie andava da lei una volta alla settimana ella viveva in una minuscola cazupola per metà in rovina campava alla meglio e di quel che le capitava non sapeva mai se si sarebbe sfamata il giorno dopo e in generale pativa una dura sorte ermolai quest'uomo spensierato e bonario la trattava in modo crudele e grossolano in casa pigliava un aspetto minaccioso e arcigno e la sua povera moglie non sapeva come compiacerlo tremava sotto il suo sguardo gli comprava del vino con le ultime copeche e lo copriva servilmente col proprio tulup quando egli sdraiatosi maestosamente sulla stufa si addormentava del sonno degli eroi a me stesso accadde più di una volta di notare in lui involontarie manifestazioni di una certa cupa ferocia non mi dispiaceva l'espressione del suo viso quando teneva fra i denti l'uccello colpito ma ermolai non rimaneva mai più di un giorno a casa e fuori di casa ridiventava ermolca come lo avevano soprannominato per cento verste all'ingiro e come lui stesso si chiamava qualche volta l'ultimo servo della casa padronale si sentiva superiore a quel vagabondo e forse appunto per questo lo trattava amichevolmente e i contadini in principio gli davano volentieri la caccia e lo acchiappavano come una lepre in un campo ma poi lo lasciavano andare con dio e una volta conosciuto il bel tipo che era non lo toccavano più e gli davano perfino del pane ed entravano in discorso con lui questo è l'uomo che io presi meco come cacciatore ed è con lui che andai all'aspetto nel gran bosco di betulle in riva lista molti fiumi russi la somiglianza del volga hanno una riva dirupata e l'altra a prato così lista questo fiumicello si torcia in modo straordinariamente capriccioso striscia come una serpe non scorre dritto neppure per una mezza versta e in alcuni punti dall'alto di un erto colle è visibile per una decina diverse con le sue dighe gli stagni i murini gli orti circondati da citisi e da folti giardini di pesci nell'ista ce n'è un visibilio specialmente gozzi i contadini li tirano fuori da sotto i cespugli con le mani durante la calura i piccoli beccazzini volano su e giù fischiettando lungo le lipe sassose screziate da fredde e limpide sorgenti le hanno i tre selvati che vengono nuotando fino in mezzo agli stagni e si guardano caute in giro gli ironi stanno ritti all'ombra nelle insenature sotto le balze scocese rimanemmo all'aspetto circa un'ora uccidemmo due coppie di beccazze e volendo nuovamente tentare la fortuna prima del sorgere del sole all'aspetto ci si può andare anche di mattina stabilimmo di passare la notte nel prossimo mulino uscimmo dal boschetto scendemmo il colle il fiume rotolava le sue onde azzurro cupe l'aria si addensava greve dell'umidità notturna bussammo al portone i cani abbaiarono nel cortile chi è là risuonò una voce rauca e assonnata cacciatori lasciateci per notare nessuna risposta pagheremo andrò a dirlo al padrone zitti maledetti vi colga il malanno sentimmo il garzone entrare nell'isba poco dopo ritornò al portone no disse il padrone non vuole che vi faccia entrare e perché non vuole perché ha paura siete cacciatori teme che possiate dar fuoco al mulino con quell'arsenale lì che sciocchezze vi è che l'anno scorso il mulino ci bruciò vi pernotarono dei mercanti di bestiame e in qualche modo gli dettero fuoco ma come fratello non potremo mica passare la notte all'aperto vedetevela voi se ne andò facendo rumore con gli stivali gli ermolai viene augurò di ogni sorta andiamo al villaggio disse infine con un sospiro ma il villaggio distava un paio di verste per notiamo qui disse io all'aperto la notte è calda il mugnaio per denaro ci manderà della paglia gli ermolai acconsentì senza ribattere ci mettemmo a bussare ma che cosa vi occorre risonò di nuovo la voce del garzone ve l'ho detto non si può gli spiegammo quel che volevamo e gli andò a consigliarsi col padrone e tornò con lui il portello scricchiolò comparve il mugnaio un uomo d'alta statura con un viso grasso un collo taurino e un ventre tondo e grosso e gli accondiscese alla mia proposta a cento passi dal mulino si trovava una piccola tettoia aperta da tutti i lati là si portarono della paglia del fieno sull'erba presso il fiume il garzone mise un samovar e accocolatosi cominciò a soffiar di lena nel tubo i carboni accendendosi rischiararono nitidamente il suo giovane viso il mugnaio corse a svegliare la moglie e infine mi propose gli stesso di pernottare nell'isba ma io preferì rimanere all'aria aperta la mugnaia ci portò del latte uova patate e pane ben presto il samovar prese a bollire e ci mettemmo a bere il tè dal fiume si alzavano vapori non c'era vento intorno gridavano le gallinelle presso le ruote del mulino si udivano deboli suoni erano le gocce che cascavano dalle pale l'acqua che stillava dalle chiuse della diga accendemmo un piccolo fuoco mentre gli ermolai arrostiva delle patate nella cenere feci in tempo ad assopirmi un leggero sussurrio contenuto mi svegliò sollevai il capo davanti al fuoco sul mastello rovesciato stava seduta la mugnaia e discorreva col mio cacciatore già prima dal suo vestito dai movimenti e dalla pronuncia avevo riconosciuto in lei una donna di servizio non una contadina né una borghese il suo viso magro e pallido servava tracce di una bellezza notevole mi piacquero in special modo gli occhi grandi e tristi e l'aveva appoggiato i gomiti sui ginocchi e posato il viso sulle mani gli ermolai mi voltava il dorso e aggiungeva schegge sul fuoco a zeltuchina c'è di nuovo la moria diceva la mugnaia a padre ivan sono morte le due mucche dio ci salvi e i vostri maiali domandò gli ermolai dopo un po di silenzio sono vivi mi dovreste regalare un porcellino la mugnaia tacco e poi sospirò con chi siete domandò con un signore di costo marovo gli ermolai gettò alcuni rami da bete sul fuoco i rami scoppiettarono subito tutti insieme uno spesso fumo bianco gli andò dritto in faccia perché tuo marito non ci ha lasciato entrare nell'isba ha paura ah il pancione colombella ad in attimo fievna portami un bicchiere di vinetto la mugnaia si alzò e scomparve nel buio l'ermolai si mise a cantare a mezza voce nell'andar dal ben amato le mie scarpe ho logorato harina tornò con una piccola caraffa e un bicchiere gli ermolai si sollevò un poco si segnò e beve d'un fiato mi piace aggiunse la mugnaia tornò a sedere sul mastello dunque harina timofievna dai sempre poco bene e che cos'hai la tosse mi tormenta la notte il signore ha preso sonno pare disse i ermolai dopo un breve silenzio tu harina dal medico non c'è andare sarà peggio infatti non ci vado e vieni a trovarmi harina chinò il capo da mia la moglie cioè se mai la caccero via continuò i ermolai davvero sarebbe meglio che svegliaste il signore gli ermolai petrovic vedete le patate si sono cotte e lascialo dormire osservò indifferente il mio fedel servitore si è stancato a correre e perciò dorme mi rivoltai sul fieno gli ermolai si alzò e mi venne vicino le patate sono pronte favorite uscì di sotto la tettoia la mugnaia si alzò dal mastello e voleva andarsene mi misi a parlarle è molto che avete preso in affitto questo mulino a trinità è cominciato il secondo anno e tuo marito di dov'è harina non intese bene la mia domanda di che parte è tuo marito ripete gli ermolai alzando la voce di bielievo un borghese di bielievo e tu pure sei di bielievo no io sono di signori sono stata di signori di chi del signor sviarkov ora sono libera di quale sviarkov alexander silice non sei stata forse cameriera di sua moglie come lo sapete lo sono stata guardai harina con raddoppiata curiosità e compassione conosco il tuo padrone proseguì lo conoscete riprese sottovoce e abbassò gli occhi bisogna dire al cuore perché avevo guardato harina con tanta compassione durante il mio soggiorno a pietroburgo avevo conosciuto per caso il signor sviarkov egli occupava un posto abbastanza importante godeva fama di uomo esperto e capace aveva una moglie grassa sensibile facile alle lacrime e cattiva una creatura dozzinale pesante aveva anche un figuolo un signorino autentico viziato e sciocco l'aspetto dello stesso sviarkov poco disponeva in suo favore da un largo viso quasi quadrangolare guardavano maliziosamente due occhi di topo sporgeva un naso grosso e aguzzo delle narici aperte i capelli grigi tagliati corti si drizzavano come setole sulla fronte rugosa le labbra sottili si muovevano incessantemente e avevano un sorriso mellifluo il signor sviarkov stava di solito con le gambe divaricate e con le grosse mani cacciate nelle tasche una volta mi capitò di andare con lui in carrozza fuori di città ci mettemmo a discorrere da uomo esperto e pratico il signor sviarkov cominciò a indirizzarmi sulla via della verità permettetemi di osservarvi pigolò finalmente voi tutti i giovani giudicate e parlate di tutte le cose a vanvera conoscete poco la vostra stessa patria la russia signori vi è ignota così è voi non fate altro che leggere libri tedeschi ecco ad esempio voi mi dite questo e quest'altro a proposito di sì cioè a proposito dei servi va bene non discuto tutto questo sta bene ma voi non li conoscete non sapete che razza di gente è il signor sviarkov si soffia forte il naso e fiutò del tabacco permettetemi di raccontarvi a modi esempio un piccolo aneddoto vi potrà interessare il signor sviarkov espettorò voi sapete non è vero che moglie ho io mi pare che una donna più buona di lei sia difficile trovarla ne conferrete voi stesso per le ragazze addette al suo servizio la vita non è che un paradiso in terra ma mia moglie si è imposta come norma di non tenere cameriere maritate tant'è è una cosa che non va vengono i figli e questo e quell'altro via come può mai la cameriera aver cura della padrona vegliare come si deve alle sue abitudini non ci pensa neppure ha ben altro in mente bisogna giudicare con umanità ecco che una volta passiamo nel nostro villaggio sarà stato come dirvi senza bugia 15 anni fa vediamo che lo staro sta una ragazzina sua figlia molto graziosa aveva perfino sapete qualcosa di ossequioso nelle maniere mia moglie mi dice cocò vale a dire sapete lei mi chiama così prendiamoci questa ragazzetta di pietroburgo mi piace cocò io dico prendiamola con piacere lo starosta si capisce ci si butta ai piedi una simile fortuna capite non poteva aspettarsela ma la bambina si sa pianse un poco la sciocca in realtà da principio è una pena la casa paterna in generale qui non c'è da meravigliarsi per nulla tuttavia si abituò presto a noi prima la mettemmo con le donne di servizio si intende che le insegnarono e che cosa credete la bambina fa progressi sorprendenti mia moglie le si affeziona addirittura e infine facendola passare in ansia ad altre la promuove sua cameriera personale notate bene e bisognava renderle giustizia una cameriera così mia moglie non l'aveva ancora avuta servizievole modesta ubbidiente in breve tutto quello che ci vuole in compenso però lo confesso mia moglie la viziava anche troppo la vestiva benissimo le faceva mangiare i cibi della nostra tavola le dava il tè beh tutto quel che ci si può immaginare e così lei servì da mia moglie una decina d'anni improvvisamente una bella mattina figuratevi entra harina si chiamava harina nel mio studio senza essere annunciata e mi si getta ai piedi io questo ve lo dirò francamente non lo posso soffrire l'uomo non deve mai dimenticare la sua dignità non è vero che vuoi patrushka alexander sirice vi chiedo una grazia quale permettetemi di prendere marito vi confesso che rimaci stupefatto ma lo sai sciocca che la signora non ha un'altra cameriera io servirò la signora come prima sciocchezze sciocchezze la signora cameriera sposata e non ne tiene malania può prendere il mio posto ti prego di non discutere come volete confesso che restai di stucco vi fa noto che io son fatto così nulla mi offende tanto osodire nulla mi offende così fortemente come l'ingratitudine da non ho bisogno di dirvelo voi sapete che moglie è la mia un angelo in carne ed ossa una bontà da non potersi dire anche uno scellerato mi pare ne avrebbe avuto pietà cacciai via harina penso forse tornerà in sé non sia voglia sapete di credere al male alla nera ingratitudine dell'uomo che cosa credete dopo sei mesi lei si permette di venirsele di nuovo da me con quella stessa preghiera qui io lo confesso la cacciai via con collera e la minacciai e promisi di dirlo a mia moglie ero indignato ma figuratevi il mio stupore qualche tempo dopo viene da me mia moglie in lacrime e così agitata che quasi mi spaventai che è successo harina voi capite mi vergogno di pronunciare la parola non può essere chi è stato petrusca il domestico mi sentì rivoltare io sono fatto così non mi piacciono le mezze misure petrusca non ne ha colpa non si può castigare ma lui secondo me non è colpevole ma via via che altro c'è da dire si capisce ordinai subito di raderle i capelli vestirla di sacco e confinarla in campagna mia moglie ha perduto un'ottima cameriera ma non c'era da far nulla un disordine in casa non si può mica tollerare un membro malato è meglio reciderlo di colpo dunque dunque ora giudicate voi stesso voi non è vero conoscete mia moglie e insomma è un angelo si era affezionata ad harina e harina sapeva e non si vergognò e no dite ma a che provo a parlare in ogni caso non c'è da far nulla io poi personalmente rimasi a lungo addolorato offeso dall'ingratitudine di quella ragazza che che ne diciate cuore e sentimento in questa gente non state a cercarne il lupo comunque tu gli dia da mangiare guarda sempre verso il bosco una lezione per l'avvenire ma io volevo soltanto dimostrarvi il signor sviarkov senza finire il discorso voltò in là il capo e si avvolse più stretto nel suo mantello dominando virilmente l'involontaria agitazione il lettore capisce ora probabilmente perché avessi guardato harina con compassione è molto che hai sposato il mugnaio le domanda infine due anni e che il padrone te lo permise mi riscattarono chi saveli alexiajevic e chi è mio marito jermolai sorrise tra sé ma forse il signore vi ha parlato di me soggiunce harina dopo un breve silenzio io non sapevo che cosa rispondere alla sua domanda harina gridò da lontano il mugnaio e la si alzò e andò via è un uomo suo marito domandai agli ermolai così così i bambini ne hanno ne avevano uno ma è morto ebbene piacque al mugnaio non è così deve molto per il suo riscatto non saprei essa sa leggere e scrivere nel loro mestiere questo è una cosa buona gli sarà piaciuta e tu la conosci da molto tempo da molto prima andavo dai suoi padroni la loro villa non è lontana di qui il domestico petrusca lo conosci piotro basilievich eccome no lo conoscevo e dov'è ora è andato a fare il soldato tacemmo e lei non è in salute perrebbe domandai infine agli ermolai che salute ma domani e quanto sembra la cazza sarà buona adesso non vi farebbe male dormire un poco uno stormo di anatre selvatiche con un fischio ci passò rapido sul capo io dimmo come si calò nel fiume non lontano da noi era già buio del tutto e cominciava a far freddo nel boschetto un usignuolo mandava i suoi schiocchi sonori ci ravvolgemmo nel fieno e ci addormentammo